Industriali calabresi guardano al futuro a Catanzaro il Roadshow Nazionale di Confindustria obiettivo rilanciare i nuovi temi che gli industriali italiani vogliono portare avanti per promuovere crescita e sviluppo. Vediamo. Si chiama Orizzonte 2030, Roadshow Nazionale di Confindustria. Prima tappa a Catanzaro per la prima volta in Calabria l'intero comitato scientifico consultivo della piccola industria obiettivo rilanciare i nuovi temi che gli industriali vogliono imprimere per promuovere crescita e sviluppo ma crescita significa innovazione e non esiste innovazione senza nuove competenze. Chiaro il messaggio del Presidente Nazionale della piccola industria, il Sud, ha detto ha bisogno solo di un po' di coraggio per diventare protagonista dello sviluppo. Insomma, basta piangersi addosso. La discussione avviata in seno al nuovo organismo dunque ha come obiettivo quello di proporre soluzioni utili a governare con efficacia tutti i processi di cambiamento. È un organo nuovo, costituito in maniera multidisciplinare, quindi con componenti del mondo dell'impresa, del mondo accademico, del mondo delle professioni, anche con professori di università estere, proprio per avere, e anche multiterritoriale, per avere sia una multidisciplinarità nell'approccio ma anche una multiterritorialità, quindi cercare di avere uno spaccato quanto più possibile ampio di quelle che sono le tematiche dell'impresa e dell'imprenditore. Gli industriali dunque si proiettano verso il futuro. In questo periodo storico la sinergia e la collaborazione rappresentano la strada necessaria per rafforzare i legami col territorio e tentare di superare insieme i problemi del sud. La centralità dell'impresa e dell'imprenditore, soprattutto nelle piccole industrie, è davvero importante perché c'è una simbiosi, quella tra impresa e territorio. Meritocrazia, futura innovazione, è stato sottolineato, rappresentano le parole chiave per costruire un percorso di sviluppo futuro. Sicuramente l'impresa oggi come oggi è lo strumento funzionale allo sviluppo del territorio perché nell'impresa non c'è soltanto il perseguimento dell'utile ma c'è soprattutto una risorsa importante e fondamentale, credo che poi sia la meritocrazia, sia la ricerca, l'innovazione, e quindi proprio da qui bisogna partire per dare un futuro nuovo soprattutto alle nuove generazioni.